Secondo me è incredibile, perché abbiamo fatto una grandissima partita tutti quanti, però se vuoi vincere queste partite e vogliamo diventare grandi dobbiamo fare il secondo gol, purtroppo neanche prendere un gol dietro. No, loro erano in difficoltà come tutti avete detto perché indietro loro non erano con tutti, però davanti c'erano con tutti, quindi per noi è stata una partita difficile, ma secondo me, come anche De Frey ha detto, abbiamo fatto molto bene, hanno tirato due volte in porta, però è incredibile che fanno gol. Sì, ci sono ancora 14 partite, quindi non è ancora chiuso, però sicuramente dobbiamo vincere la prossima se vogliamo arrivare in Europa, perché se giochiamo come oggi meritiamo tantissimo di arrivare in Europa. Guardiamo partita dopo la partita, però anche quello è importante, però come ho detto prima, noi vogliamo prima vincere da Empoli, dopo pensiamo al derby. No, lui è forte, però secondo me anche io sono cresciuto tantissimo, sono completamente un giocatore diverso, però secondo me noi due insieme facciamo benissimo. Il più importante è difendere e in quello ho fatto un passo davanti, sto guardando anche De Frey perché lui lì è molto forte, così lui mi può aiutare, come anche lui ha detto, noi lavoriamo tanti insieme per crescere e vogliamo anche giocare insieme, adesso stiamo facendo bene. No, ciao. No, no. Grazie a tutti.